Decine di generatori diretti in Ucraina e il risultato delle donazioni fatte all'Arcidiocesi di Olomouk e Repubblica Ceca. La Nato promette altri aiuti all'Ucraina e il ministro degli esteri di Kiev chiede di fare presto. La direttrice dei servizi segreti spagnoli interrogata dal Parlamento europeo sul caso di spionaggio degli indipendentisti catalani. Tante domande ma nessuna risposta. Più di 70.000 euro raccolti per comprare 36 generatori di corrente è il risultato delle eccezionali donazioni fatte all'Arcidiocesi di Olomouk in Repubblica Ceca. I generatori verranno inviati già nelle prossime ore nel sud e nell'est dell'Ucraina. I generatori sono prioritari in Ucraina, così come stufe in generale. Manderemo anche un grande generatore da 400 kilowatt. Non voglio dare una posizione specifica, non voglio entrare nei dettagli, ma fornirà energia per una centrale idrica, per una città di circa 100.000 persone. Ma ai confini con l'Ucraina, la corsa alla solidarietà è generalizzata, anche la Polonia sta inviando generatori ai vicini. Kherson è rimasta senza energia, ma qui, come altrove nel paese, l'elettricità è fornita per alcune ore al giorno. La situazione resta critica, dice il premier ucraino. C'è un deficit di elettricità, ma nonostante tutto riusciamo a coprire il 50-60% del fabbisogno. Riusciamo a far sì che tutti possano avere 5-6 ore di elettricità al giorno. Per il premier ucraino, se si va avanti così, anche l'inverno di guerra sarà superato. Sostenere l'Ucraina fino a quando serve, rafforzare il partenariato con Kiev, mentre avanza nelle sue aspirazioni euro-atlantiche e testuale, soprattutto fronteggiare l'emergenza elettricità e inverno. Così i ministri degli esteri dei paesi in Nato, nel primo di due giorni di summit a Bucharest. I ministri degli esteri hanno riaffermato il sostegno della Nato al diritto dell'Ucraina di scegliere la propria strada e riconoscere e rispettare le aspirazioni dell'Ucraina all'adesione. Tuttavia, il nostro obiettivo ora è fornire un sostegno immediato mentre l'Ucraina si difende dall'aggressione russa. Il ministro degli esteri ucraino, Dimitro Kuleba, parlando alla stampa, ha detto che ora la parola d'ordine è a fare presto. Gli aiuti dei paesi dell'Alleanza si esauriscono, l'inverno morde, servono trasformatori e mezzi di difesa antiaerea. Apprezziamo quello che è stato fatto, ma la guerra continua. Abbiamo dimostrato che possiamo sconfiggere la Russia, che possiamo vincere. Abbiamo bisogno della difesa antiaerea, Iris, Hawks, Patriots e abbiamo bisogno di trasformatori. La Nato si è impegnata a inviare i generatori e aiutare a riparare le infrastrutture energetiche distrutte dai missili russi. Questo mercoledì al Vertice si parlerà di gas in un contesto in movimento in cui si ridisegna la geografia dei fornitori. Tante domande, ma nessuna risposta nell'udienza del Parlamento europeo dedicata all'utilizzo in Spagna del software Pegasus, con cui sono stati spiati alcuni irrilevanti indipendentisti catalani. Testimone d'eccezione in videocollegamento era il capo dei servizi segreti spagnoli Esperanza Castelero, che però non ha fornito spiegazioni, sostenendo di essere tenuta a informare nel merito soltanto il Parlamento spagnolo. La direttrice del Centro Nazionale d'Intelligenza si è limitata a spiegare nel dettaglio il quadro giuridico in cui operano i servizi segreti del suo paese, argomento che non soddisfa alcuni degli europarlamentari presenti. Tra le persone spiate ci sono ad esempio membri del Parlamento europeo, la cui immunità dovrebbe proteggerli nell'ambito del loro mandato e quindi spiare gli eurodeputati è illegale. Non abbiamo avuto vere risposte su questi elementi durante l'udienza. Da un lato vogliamo che la magistratura possa svolgere il suo lavoro in piena indipendenza, dall'altro chiediamo anche ai governi di condividere maggiori informazioni con la commissione d'inchiesta del Parlamento, perché tutti stanno usando l'argomentazione della sicurezza nazionale. Anche il presidente spagnolo Pedro Sanchez e due ministri del suo governo sono stati vittime di spionaggio, forse da parte del Marocco. Il cosiddetto catalangheiter resta però il caso politicamente più spinoso, con varie figure dell'indipendentismo sorvegliate da Madrid. Ma c'è anche chi difende il silenzio della direttrice dei servizi segreti. Non è che non voglia farlo, è che non può farlo. Questa è una legge e in uno stato di diritto le regole vanno rispettate. Il Centro Nazionale d'Intelligenza ha rispettato la legge. Ha indagato 18 persone sulle 65 ipoteticamente sorvegliate per un possibile reato e su ordine del tribunale. La direttrice è intervenuta per rispetto a questa commissione e per dire quello che può. Ciò è pochissimo. La commissione PEGA ha organizzato indagini nei paesi in cui è stato denunciato l'uso di spyware, come Ungheria, Polonia e Grecia, ma anche in Israele, dove è a sede l'azienda produttrice di Pegasus. Dalla lista delle missioni però continua a mancare la Spagna. Il presidente Sergio Mattarella in visita di Stato e Svizzera l'ha detto chiaro. Il panorama internazionale è condizionato dalla guerra in Ucraina. La minaccia posta dalla Russia richiede un rinnovato slancio di unità e coesione. Così l'inquilino del Quirinale tende la mano alla Confederazione e ambasciatore di prim'ordine, visti fitti legami tra Italia e Svizzera, di una volontà diffusa pure a Bruxelles, che auspicherebbe un accordo quadro istituzionale con la Confederazione. Da Berna poi Mattarella ha risposto a una domanda sull'evasione fiscale, definendola un problema importante per l'Italia e sottolineando però che il PNRR contiene molte indicazioni per combatterla. Mattarella a Berna si è arrecato anche al museo Paul Klee e ovviamente ha incontrato la comunità italiana e Svizzera. Per questo mercoledì è prevista una visita al Politecnico di Giurigo. Cos'hanno in comune la più vincente e conosciuta squadra di calcio italiana, la Formula 1 e la Liga Spagnola? Una crisi sistemica che sembra aver investito un gruppo per anni saldissimo, oggi guidato da John Elkan, imparentato con la famiglia Agnelli, proprietari della Fiat. Malgrado nove titoli consecutivi, in queste ore si è dimesso l'intero consiglio di amministrazione della Juventus di Torino, con in testa il presidente Andrea Agnelli. La dirigenza della squadra è stata messa alla porta e adesso i nomi per i sostituti si rincorrono. Troppo grande è un passivo di 254 milioni di euro e operazioni che si sono rivelate veri e propri bagni di sangue, come quella che un paio d'anni fa ha portato Cristiano Ronaldo in bianco-nero. Se i titoli nazionali si sono moltiplicati, la Champions in questo decennio è rimasta un sogno, così come l'obiettivo di diventare grandi anche in Europa. Il passivo è talmente importante che addirittura la Lega Calcio Spagnola ha chiesto all'UEFA immediate sanzioni per violazione delle norme sul fair play finanziario, su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana. In particolare l'accusa di aver contabilizzato i trasferimenti al di sopra del loro valore equo e aver sottovalutato le spese. Rivoluzione anche in Ferrari, altra controllata della Galassia Elcan, dove un campionato non esaltante ha portato alle dimissioni di Mattia Binotto, da 28 anni alla testa del reparto tecnico delle Rosse. Pessimi i risultati di queste ultime stagioni, una rivoluzione che rischia di costare carissima a quella che un tempo era considerata la corazzata del capitalismo sportivo italiano. Dove inizia esattamente la fine? È difficile da capire, ma la crisi di Juventus ha certamente radici ben affondate anche nel passato nemmeno tanto recente. A far scoppiare il bubone però è anche l'arrivo dei nuovi signori del calcio, che hanno inondato l'Europa di fondi, ambizioni esasperate e spettacolo kitsch. Un tutto che diventava troppo e si faceva inseguire da chi aveva meno risorse e finiva per scoprirsi. Fabio Capello, che interistavamo qualche giorno fa a Dubai, faceva un'analisi su come è cambiato il calcio. E in fondo era solo l'ennesimo campanello d'allarme e pochi giorni dopo i bianconeri piombavano dal caos. Quando sono intervenuti nel PSG, nel Manchester City, nel Newcastle, nuove proprietà molto ricche che hanno fatto sì che il calcio possa diventare una cosa molto più di elite. perché con le risorse che hanno messo in campo queste squadre, che ho detto adesso, hanno quasi una possibilità infinita di spendere. Questa grande possibilità ha fatto sì che le altre squadre europee possano trovarsi in difficoltà. Purtroppo noi italiani non siamo più competitivi perché fino a poco tempo fa eravamo in posto dove arrivavano tutti i giocatori, invece adesso vanno tutti a giocare in Inghilterra, viste le risorse che ci sono.